sono molto contento di portare il saluto ad un incontro che ritengo davvero importante importante per tutti importante anche che sia qui a bologna in una città che vuole guardare il mondo proprio mondo ma anche il mondo e quindi mettere assieme diversi paesi sono sei paesi della commissione europea mettere insieme delle realtà diverse diverse scuole che sono coinvolte l'università che è coinvolta nel progetto mi sembra sempre metodologicamente qualcosa di molto importante e poi il tema pro child essere attenti sensibili su tutti i maltrattamenti gli abusi le violenze intrafamiliari e saper vedere questo poter vedere questo con un approccio multidisciplinare mettere insieme dei vari punti di osservazione per avere una maggiore completezza nell'analisi e anche nelle delle risposte gli abusi sui bambini sono quelli tra i più intollerabili molte volte per fortuna è cresciuta ovunque anche nella chiesa consapevolezza di questo tanto da saper identificare qualche volta c'è un'ambiguità che permette quelli che sono degli abusi in alcuni casi consapevoli coscienti e nascosti in tanti modi in altri casi che giocano su questa ambiguità credo che questa chiarezza di approcci diversi ci aiuterà anche a far emergere gli abusi a comprendere quali sono gli abusi di che cosa stiamo parlando e quindi anche a trovare delle a indicare delle soluzioni per quello che è fondamentale che non è mai soltanto registrarli identificarli ma anche prevenirli e credo che questa è la grande sfida luna cosa aiuta l'altra cioè l'identificazione aiuta anche la prevenzione di qualunque tipo di abusi e maltrattamenti di quelli più evidenti di quelli più sottili di quelli molto insidiosi perché sono quelli che si vedono di meno anche perché la violenza intrafamiliare molte volte è più complicata da osservare ecco per questo buon lavoro è importante e certamente aiuterà tutti tutti quanti coloro che hanno a cura la difesa dei bambini e quindi anche la chiesa con il monito che gesù ha dato di non scandalizzare nessuno di questi piccoli ricordandoci sempre che è sempre fatto anche a lui se vogliamo nel motivo spirituale per i credenti ma penso davvero per tutti di difendere con intelligenza compassione il futuro dei nostri figli il futuro dei bambini dei più piccoli e più deboli grazie a tutti